Esiste il multiverso? Per affrontare questa domanda dobbiamo partire da una questione apparentemente molto 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 diversa. Il mistero della vita, ovvero, dobbiamo chiederci perché le costanti della fisica, come la costante di Newton, che regola l'intensità dell'interazione gravitazionale, o la costante di Planck, che governa la transizione tra mondo quantistico e mondo classico, o la massa dell'elettrone o di tutte le altre particelle elementari, sembrino avere proprio i valori necessari per permettere lo sviluppo di una vita complessa e cosciente. E lo facciamo, come sempre, dopo la sigla. Salve a tutti crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Io sono sempre Davide e oggi siamo qui per dirci che la vita è una cosa complicata. O meglio, complessa. Nel senso che gli animali, le piante e tutti gli altri buffi replicanti che brulicano su questo nostro bizzarro pianeta alla deriva nel vuoto pneumatico e gelido, sono uno degli oggetti centrali dello studio dei cosiddetti sistemi complessi. La scienza che per sua natura è infinitamente multidisciplinare e non esauribile in un video, ovviamente, di pochi minuti. Se non mi credete, andate a recuperare i nomi dei membri celebri del Santa Fe Institute, uno dei luoghi dove la scienza dei sistemi complessi in senso moderno si è sviluppata ed è cresciuta di più. Troverete matematici, fisici, economisti, biologi, chimici, informatici, neuroscienziati ed un sacco di altra robaccia. In un certo senso, parafrasando i contributi di molti di questi ricercatori, primo tra tutti Stephen Wolfram, che si è occupato direttamente del problema in gioventù con risultati brillanti, la vita è in un equilibrio estremamente precario su un filo molto sottile teso tra caos e morte. Cerco di essere un po' meno drammatico. Immaginate di essere delle divinità. Avete appena preso il vostro diploma all'università per corrispondenza per divinità della galassia di Andromeda. Una laurea seria, mica fisica teorica, e vi hanno appena messi a fare un po' di praticantato, pagati molto male, quindi c'è tutta una dinamica sindacale di proteste, ma non ci entriamo oggi, con un piccolo universo giocattolo. E vi trovate di fronte, dopo aver timbrato il cartellino il primo giorno, ad un bel pannello di controllo con un sacco di manopole. Siete un po' come Homer Simpson alla centrale nucleare di Springfield. Ognuna di queste manopole controlla una delle costanti fondamentali dell'universo. Avete la manopola della costante di Newton, avete la manopola della costante di Coulomb, avete la manopola della costante di Boltzmann, avete la manopola della massa dell'elettrone, avete la manopola della costante cosmologica, e così via. Voi, dicevo, non avete tanta esperienza, quindi non sapete come regolarle per fare un universo decente e ragionevole, e quindi applicate il vecchio metodo oculorino spannometrico, a occhio, a naso, a spanne. E vi accorgete subito, perché siete persone sveglie di un certo pattern, anche andando a caso. Vi trovate quasi sempre in due situazioni opposte. Il caos più totale in cui l'universo non è che un gorgogliare di oggetti che nascono e muoiono in continuazione senza aver tempo né struttura per darsi un'organizzazione complessa e interessante, o la più fredda morte della dinamica, in cui tutto raggiunge uno stato di equilibrio e stasi perenne, in cui ogni genere di evoluzione e interazione è uccisa. Nulla si trasforma. È chiaro che il nostro universo non appartenga né alla prima, né alla seconda categoria, perché noi certo abbiamo delle strutture complesse e articolate, non siamo puramente caotici, ma queste strutture si evolvono, seguono una dinamica, interagiscono in modo non banale, infine si distruggono e l'entropia cresce. Quindi non è ordine totale e morte. Stiamo più o meno a metà. Potete immaginare un enorme spazio dei parametri, come una cartina che voi esplorate, muovendovi a nord, sud, est e ovest, con le vostre manopoline con cui modificate le costanti della natura. Su questo continente esistono due regni in guerra perenne, il regno del caos, a sinistra, e il regno della morte, a destra. E qua non c'è politica, se no sarei davvero estremamente pessimista. Ecco, la vita vive su quel piccolo muro che sta esattamente a metà tra il regno del caos e il regno della morte. è una muraglia solida, perché quando ci sei non caschi, nel senso riesci a starci in modo stabile, ma sottile. Se ti sposti un po' a sinistra, nello spazio dei parametri, caschi nel regno del caos, e se ti sposti un po' a destra, caschi nel regno della morte. Devi davvero dare le coordinate in modo preciso per cascare esattamente sulla muraglia, dove è possibile avere delle strutture complesse, ma queste strutture si evolvono, vivono per tempi finiti, e poi si distruggono. Com'è possibile che le costanti della fisica del nostro universo siano esattamente quelle che permettono di evitare il regno della morte, il regno del caos così grandi, e cascare precisamente sulla muraglia che permette di generare strutture complesse, ma non banali, come gli esseri umani che parlano davanti alle telecamere nelle loro camerette o nei loro salotti il mercoledì pomeriggio. Per affrontare questa faccenda, che sembra avere qualcosa di magico e demistificarla un po', perché dietro ogni magia c'è sempre un trucco, dobbiamo partire da degli esempi analoghi, ma un pochino più semplici. Dunque, parliamo di tombola. Immaginiamo che io prenda 100 di voi, spero che almeno 100 persone guardino questo video e li metta in una stanza. A quelle persone do un numerino, da 1 a 100 una tesserina con un numerino, poi mi metto sul palco con il mio completo arcobaleno, faccio un monologo che non interessa a nessuno perché tutti vogliono solo il premio, perdo un po' di tempo, pesco una pallina dal mio cestino, la guardo, non vi dico cos'è, faccio rullare i tamburi e poi vi mostro il 67, colui che aveva ricevuto la tesserina con scritto 67, si porta a casa una bici rosso fiammante, troppo piccola, troppo grande, un po' a risparmio, ma non è questo il punto. YouTube non dà troppo budget per far questo genere di cose. Quel qualcuno, in quanto essere umano, in quanto pieno di bias cognitivi, in quanto portato ad avere un po' di pensiero magico, come tutti noi, proprio perché il nostro cervello si è sviluppato in un contesto di pressioni selettive molto violente, che ci ha portato anche a sviluppare certe euristiche un pochino così, un pochino slegate dalla struttura della ragione, della logica e dell'universo materiale naturale. Quindi a volte vediamo dei rapporti causa-effetto che non ci sono. Dicevo, quel qualcuno sarà portato a chiedersi perché proprio lui, perché proprio lui e non qualcun altro su cento persone. Capite bene che in questo caso non c'è nessuna ragione fondamentale che mi ha portato a pescare il 67, non il 13, non il 99, non il 100, non l'1, non il 2, non il 15. Avrei potuto pescare uno qualsiasi di questi numeri senza che il cosmo se ne curasse particolarmente. Non c'è una legge profonda della fisica che impone la pescata del 67. È un accidente, è un fatto contingente, non è un fatto necessario. Un piccolo starnuto mi avrebbe portato a spostare la mano e pescare qualcos'altro tipo il 72. E quindi il 72 si sarebbe chiesto caspita, perché proprio io? Non c'è alcun perché. È solo un accidente e per certi versi il nostro problema potrebbe essere simile a questo. E facciamo ancora un esempio prima di entrare nel vivo della questione, ovvero quello del Sistema Solare. Un tempo la gente pensava che il numero di pianeti del Sistema Solare avesse un significato, che ci fosse qualcosa nell'aritmetica, nelle regolarità geometriche che giustificasse il numero di pianeti, ovvero che il numero di pianeti del Sistema Solare avesse a che fare con una proprietà fondamentale della realtà. E poi ci siamo guardati intorno. Abbiamo visto Sistemi Solari con 5 pianeti, Sistemi Solari con 10 pianeti, Sistemi Solari con 12 pianeti e con 2. Ci siamo resi conto che non c'è nulla di fondamentale e profondo nel numero di pianeti del Sistema Solare, ma è un po' bias del sopravvissuto, un po' una questione antropica. Ovvero, esistono delle cose, delle osservazioni fisiche che noi facciamo appunto come il vincere una partita di tombola o come il numero di pianeti del Sistema Solare in cui ci siamo sviluppati, in cui siamo nati, cresciuti, abbiamo fatto scienze, ci siamo posti le domande che non dipendono dalle proprietà intrinseche della fisica, che non hanno una legge fondamentale che le spiega, ma che sono tutto sommato degli accidenti del caso in senso classico, non il caso quantistico, il caso solito, quello in cui non conosciamo le condizioni al contorno e quindi non sappiamo esattamente perché i pianeti qua siano un po' e di là siano un altro po' e di là siano un altro po' ancora, ma tutto sommato non c'è nulla di troppo interessante nel capire perché in un sistema siano otto e nell'altro siano tre, ok? Il ragionamento di tipo antropico è quel tipo di ragionamento, quel tipo di spiegazione di un fenomeno che ti dice vada bene, potrebbe non essere qualcosa di importante, potrebbe essere solo casuale. Ecco, diversi scienziati, diversi fisici teorici immaginano soprattutto negli ultimi quarant'anni, perché c'è un certo tipo di evidenza teorica che non andremo a investigare, che forse la questione delle costanti del nostro universo è fatta nello stesso modo. Noi siamo qua e questo è già di per sé una spiegazione al fatto che le costanti dell'universo siano tali che la vita si possa sviluppare, ok? Perché se le costanti non lo permettessero non ci sarebbe nessuno a chiedersi, a porsi la domanda, quindi nel momento in cui c'è qualcuno a porsi la domanda allora la questione è già risolta in se stessa, è come se stessimo facendo un ragionamento probabilistico ma a posteriori siamo come quel tizio che vince il super enalotto e in quanto tizio che ha vinto il super enalotto si pone la domanda ma sa poi a bocce ferme che una risposta profonda non c'è e quindi avendo le costanti giuste è come se noi avessimo vinto il super enalotto e poi ci poniamo la domanda sul perché abbiamo vinto il super enalotto ma il solo fatto che noi ci siamo è sintomo della vittoria del super enalotto e quindi esaurisce la domanda in se stessa senza che in essa ci sia alcunché di fondamentale ma per tracciare questa analogia fino in fondo abbiamo bisogno di un altro ingrediente perché nel super enalotto ci sono tanti numeri nella questione del sistema solare ci sono tanti sistemi solari e qui ci immaginiamo l'esistenza di un universo solo ecco per avere un'analogia completa dobbiamo in qualche modo ipotizzare in questa formulazione del principio antropico perché ce ne sono tante tante altre più forti più deboli più o meno scientifiche che ci siano tanti 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 universi e badate bene questo non significa che siano realizzate tutte le possibili combinazioni di costanti e che tutte le cose immaginabili avvengano da qualche parte no quella è immondizia stiamo solo dicendo che esistono tanti universi che in ognuno di questi universi le costanti hanno certi valori e per una questione probabilistica quando gli universi sono tanti 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 e tu continui a tirare i dadi continui a tirare i dadi continui a tirare i dadi qualche volta capiterà che le costanti della fisica in uno di questi universi permettano lo sviluppo della vita se c'è abbastanza tempo affinché questa cosa possa accadere questa vita possa diventare complessa e dotarsi di un sistema di elaborazione dell'informazione sufficiente a porsi la domanda sulla natura delle costanti fondamentali del cosmo allora il problema si risolva in sé in questo senso è del tutto indistinguibile dal tizio che vince il super proprio io un perché non c'è ma come è possibile che ci siano tanti universi ecco i meccanismi fisici veri e propri possono essere di vario genere possiamo parlare di teoria delle stringhe o di inflazione eterna varie commistioni di vari approcci e cose così ma non sono i dettagli i dettagli che vogliamo analizzare oggi della fisica ma l'idea il concetto poi sappiate che tecnicamente questa cosa è realizzabile si tratta di un'ipotesi ragionevole questo tipo di ragionamento è già stato utile nella storia della fisica appunto con il sistema solare ad esempio quindi non va scartato a priori ma sappiate che non tutti ovviamente sono su questa linea si tratta di un problema aperto e in un certo senso il mio stesso lavoro è un po' un'alternativa a questo approccio qui perché noi cerchiamo invece di trovare delle leggi fondamentali che riducano questo spazio dei parametri che ci dicano che in realtà dei pezzi di regno del caos e di regno della morte sono inaccessibili per delle leggi fondamentali e a quel punto se riduci il regno del caos e della morte lo riduci li riduci li riduci li riduci diventano piccoli 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 la probabilità di cascare sulla muraglia non è più così trascurabile non ti servono tanti tanti infiniti e non ti tanti universi e non ti servono ragionamenti di tipo antropico quando io parlo di tanti universi alternativi con diversi valori delle costanti naturali fondamentali non sto ovviamente parlando di diversi spazi tempi quello sarebbe tutto un altro discorso per capire a cosa io mi riferisca vi rimando a questo video in cui ho definito la nozione di universo e spiegato come già in relatività generale possano esistere diversi universi nello stesso spazio tempo per questioni di struttura causale io vi ringrazio per essere giunti fin qui vi ricordo che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto crononauti a presto a presto a presto a presto